Ciao ragazzi, oggi sono in un nuovo video che non facevo la volta e vi farò vedere l'esperimento. Ti va una battita e due calamite così. Allora, per fare questo esperimento io ce la metto un calamite così e una così. E poi vedrete che... Oh mio Dio! Ebbene, bisognerà farlo così, guardate, visto? E le calamite non si possono toccare. E' proprio così, cioè, se le tocchi non si possono toccare. Io non capisco il senso di questa roba strana. E' strana! E poi qui ce n'ho un'altra. Questa qui non so cosa serve, è sempre una cammita. Però, però, se guardate bene, la tipo, per esempio, la posizione lì, aspetta, non si vede. Si vede! Allora, la metto a questo, lì. Spero che si veda. Ok. E la metto in giù, perché... Allora, ciao a tutti ragazzi! Caccamolle è bella! Caccamolle è bella! Mi raccomando, guardatela tu. E la metto in giù... Grazie.